benvenuti amici del canale oggi vediamo una cosa molto particolare e facilissima da fare però ve la spiego per bene come montare una lama per erba su di un decispugliatore professionale qual è la sequenza giusta di montaggio del disco del disco lama andiamo subito al banco in questo caso mi sono già preparato praticamente con il decispugliatore sul banco qui c'è la lama che dovrò montare installare su questo tipo di decispugliatore o come strumenti questo cacciaspine per il blocco della trasmissione una chiave da candela che va benissimo eventualmente invece se si ha a disposizione una chiave del 19 a tubo così a bussola magari si va anche un po meglio perché praticamente ragazzi questo tipo di dado è da 19 quindi può andare bene sia questa che questa la lama potrà essere montata sia così che così perché gli apici della lama hanno il tagliente sia da una parte che dall'altra ok in questo caso c'è già la coppetta montata devo smontare tutto per inserire all'interno una lama quindi devo andare a trovare il blocco trasmissione che andrà a bloccare la trasmissione del decispugliatore qui quindi troviamo il blocco non so se si vede vi faccio vedere vedete in questo caso la flangia che c'è qui sotto si allinea con il foro della coppia conica e posso inserire praticamente un blocco un bloccaggio di trasmissione ed ora vado a svitare il dado il dado ricordo che è sinistro e si svita in senso orario ecco qua ora impostiamo la chiave praticamente questa che si svitti che mi consentirà di svitare il dado in senso orario con una mano tengo il calciaspine con l'altra vado praticamente a svitare ok eventualmente se non avete una chiave così vi faccio vedere che anche con una chiave per la candela del 19 si riesce ecco qua allora abbiamo tolto il dado ok non perdetelo perché è un filetto speciale poi c'è la coppetta questo se vi chiedete è un po' di grasso la coppetta serve perché il disco si appoggi al terreno e non faccia toccare il perno del decespugliatore praticamente andrà così e questo andrà praticamente a toccare il terreno in modo che il perno sia protetto all'interno della coppetta infatti ragazzi se dovete prendere le coppette di ricambio cercate di prendere abbastanza profonde che il perno resti all'interno della coppetta altrimenti se il perno vi esce fuori poi mangerete il perno o il dado e sarà un problema poi troviamo un'altra flangia eccola poi c'è un'altra flangia con il foro è il foro di prima che vi ho fatto vedere in cui si può bloccare la trasmissione e qui esattamente qui vedete che c'è lo scalino ed il foro sulla coppia conica vedete ora noi facciamo il rimontaggio con il disco inseriamo prima la flangia trovando il punto di inserimento sul perno ora praticamente la flangia a uno scalino e dovremo montare il disco qui così vedete oppure possiamo girarlo dallo stesso così poi dobbiamo montare l'altra flangia questa perché va a stringere il disco tra le due flange a mo' di sandwich mi raccomando che quando andate a stringere il dado non succeda questo ok non succeda questo che il disco non scendere perché se lo stringiamo così poi questo librerà tantissimo quindi così poi montiamo la coppetta e poi il dado in senso anti orario il dado usiamo la nostra chiave oppure possiamo usare sempre la chiave della candela guardate è anche più facile una rivolta arrivati qui dovete praticamente tenere il perno inserito qua vedete così e praticamente tirare ok e avete fatto il disco è completamente montato e siete pronti per lavorare bene ragazzi a puntata finita a puntata finita abbiamo visto come si monta un disco sull'indice squigliatore e facilmente rispettando praticamente alla sequenza coppetta flangia disco e flangia di base con il foro bene diciamo che la puntata finisce qui un caro saluto ed eric type è tutto presto ragazzi al prossimo video ciao